Un'etapa obbligata per le aziende agroalimentari è Cibus. Isi Montali, il marchio rappresentato dalla titolare Stefania Montali, c'è stato il ritorno a Cibus, la sua impressione? Sì, Cibus è stato interessante, abbiamo avuto contatti soprattutto esteri, dai paesi tipo Giappone, Stati Uniti, Inghilterra, siamo abbastanza soddisfatti. Per un'azienda di tradizione come la vostra è importante innovare e qui ci sono esempi di innovazione, questi in particolare, di cosa si tratta? Queste sono paste chef, sono paste concentrate di vegetali, una pasta capperi, pasta taglio di cipolla e un soffritto che si utilizzano come basi in cucina. Noi come prodotto molto innovativo abbiamo i suvi in busta, sono su di monoporzione, servono per condire circa 150 grammi di pasta e sono pasteurizzati ad una chef plant di 24 mesi. E poi ci sono i classici qui a fianco? classici patè utilizzabili sia per semplici crostini e per guarnire carne o pesci o anche per panini, sandwich, semplici aperitivi. Un mondo di colori, un mondo vegetale, un mondo di salute si potrebbe dire anche con i vostri prodotti. Abbiamo anche una linea biologica vegana, abbiamo presentato durante il cooking chef di Union Camere dove hanno assaggiato il nostro pesto con tofu e ragù di soia. Quindi una novità positiva è sicuramente quella possibilità di fare show cooking, degustazioni quest'anno. Sì, esattamente, è stato molto interessante. Grazie, allora arrivederci alla prossima edizione del Cibus. Arrivederci. Grazie.